Hanno deciso di oscurare le loro insegne per protestare contro l'aumento della tassa proprio sulle insegne. I commercianti di Assorosa e di Roseto, gli albergatori, gli operatori economici del territorio vogliono farsi sentire dagli amministratori locali con un gesto eclatante. Così da questa mattina c'è chi ha aderito all'iniziativa coprendo l'insegna con sacchi neri. Sicuramente una protesta pacifica perché io parlo a nome di tutti i commercianti soffocati dalla pressione fiscale, oltre gli aumenti che abbiamo avuto dell'Atari fino al 50%, ora anche la tassa sulla pubblicità più 30%. È una situazione insostenibile soprattutto in questo momento dove soffre il commercio e quindi noi chiediamo il sostegno da parte dell'amministrazione e non il continuo attacco nelle tasche dei commercianti. L'azione degli esercenti rosetani non passa di certo inosservata, anzi nel suo silenzio il gesto compiuto in queste ore, cioè quello di oscurare le insegne, fa piuttosto rumore in città. Secondo alcuni il Comune ha deciso l'aumento del 30% per recuperare quella somma, circa 80.000 euro, destinata a sparire in bilancio con la cancellazione della tassa sui passi Carrai. Voglio sperare che non è per questa motivazione, in quanto chiediamo all'amministrazione che si renda conto che noi attraversiamo un momento difficile, quindi non è sostenibile questo, cioè non ci stiamo più. In quanti hanno aderito alla vostra protesta? Adesso stanno da oggi, si coprono l'insegno e man mano vedrete la nostra città che si spegne. C'è preoccupazione tra i commercianti rosetani, il Comune ha affidato ad una ditta esterna il censimento delle insegne, si pagherà quindi in base al numero e persino in base alla grandezza delle stesse. L'aumento del 30% è considerato esagerato, intanto in città alcuni esercenti hanno deciso di abbassare la serranda o di vendere la propria attività non più in grado di sopportare la pressione fiscale.